Non dimenticate però mai, cari compagni, l'unità sindacale deve essere il nostro principale obiettivo. Io lo so, cari compagni, che la vita del militante sindacale è una vita di sacrificio. A volte scandita da profonde delusioni, anche personali, ma so anche che la causa dei lavoratori è una causa talmente giusta che merita di essere servita, anche a costo delle più profonde delusioni. E quando si ha consapevolezza di questo, vedete, ognuno di noi può dire a se stesso, alla propria donna, ai propri figli. Ecco io, ho fatto il mio dovere, fino in fondo. Applausi Grazie Grazie Cos'hai, Peppino? No, niente Un poco di freddo Poche ore dopo, Giuseppe di Vittorio è morto Era il 3 novembre 1957 Un poche ore dopo, Giuseppe di Vittorio è morto Grazie per la visione